Dopo le dichiarazioni del ministro Sergio Costa, costituitosi parte civile al processo penale riguardo l'arresto del piromane del Cilento, che nel 2017 incendiò, appiccando numerosi focolai, 200 ettari del Parco del Cilento, anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nella persona del presidente Tommaso Pellegrino, si è costituita parte civile al processo penale. Il segnale deve essere chiaro a tutti, ha dichiarato il ministro Costa, chi tocca un parco tocca tutto il paese. Toleranza zero per chi non rispetta il nostro patrimonio, sono invece le parole dure del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino, dopo l'arresto di un 28enne originario di Ceraso, individuato dai carabinieri della stazione di Ascea come responsabile dei 200 focolai, che hanno poi portato all'incendio di 200 ettari di bosco. Ci sono voluti due anni di indagini per individuare il colpevole, ora è il momento che paghi per ciò che ha commesso. Ha mandato in fumo un patrimonio di valore inestimabile, ettari ed ettari di polmone verde solo per il gusto di distruggere. Un gesto incomprensibile ed ingiustificabile. La natura va tutelata e difesa, il nostro parco è la nostra casa, il nostro territorio, dovremmo averne cura, proteggerlo. Il segnale deve essere duro, ha ragione il ministro Costa, dichiara Pellegrino, che ringrazio per aver assunto immediatamente una posizione netta e decisa a tutela del nostro parco, quando dice che chi tocca il parco tocca tutto il paese ed è per questo che abbiamo deciso di costituirci parte civile per dare un segnale forte a chi crede di poter superficialmente distruggere il nostro patrimonio boschivo. Nessuna pietà e nessuna riduzione della pena che deve essere di monito a chiunque possa solo pensare di emulare un simile atto. Un ringraziamento speciale va al capitano mennato Malgeri e all'arma dei carabinieri per l'ottimo lavoro svolto e per tutto quello che quotidianamente fanno per tutelare la nostra sicurezza. Nell'ultimo direttivo, proprio in materia di sicurezza e tutela del territorio, conclude Tommaso Pellegrino, è stato stipulato un protocollo con i vigili del fuoco per mettere a punto un piano di prevenzione degli incendi. La sicurezza come sempre parte da una buona organizzazione di prevenzione e da strategie dissuasorie, oltre che da progetti di sensibilizzazione verso un argomento così importante.